La multinazionale statunitense McDonald's proprio non ci sta a vedersi chiudere le porte dinanzi alla possibilità di aprire uno dei tanti fast food in Piazza Duomo a Firenze, negli ex locali di Universo Sport, accanto alla cattedrale di Santa Maria del Fiore. L'ostacolo all'attività di ristorazione non è altro che il comune della città gigliata, che non intende cedere nonostante McDonald's, abbia già cominciato la sua guerra presentando il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Ma questo non è l'unico nuovo elemento della vicenda che potrebbe rimettere in discussione la validità dell'applicazione del regolamento UNESCO, che per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico consente l'apertura di attività commerciali solo se rispettano le caratteristiche di filiera corta, valorizzando i prodotti locali. La doccia fredda arriva nella quantificazione del danno che la mancata apertura avrebbe provocato alla multinazionale, 18 milioni di euro, chiesti come risarcimento al comune di Firenze. Sono stato alla Camera per spiegare questa norma e nel nuovo decreto scia del ministro Madia, il cosiddetto decreto scia 2, è stata inserita una norma al comma 3 dell'articolo 1 che riprende il principio fiorentino. Non si che questa norma ha posto una questione di principio, è il principio di difendere e tutelare quelle parti delle città che ne rappresentano l'identità. È chiaro a tutti, il Duomo di Firenze è conosciuto in tutto il mondo anche per quello che c'è intorno e noi abbiamo il dovere di tutelarlo. Questo ormai è entrato in un dibattito nazionale e noi pensiamo sia giusto confrontarsi su questo principio. Secondo McDonald's il comune non avrebbe tenuto di conto delle normative europee sulla libera concorrenza. Dall'altra parte, non tarda la risposta, noi tuteliamo soltanto la città e non basta che il colosso della ristorazione abbia provveduto a modificare il suo progetto passando da semplice fast food al servizio al tavolo. La posizione dell'amministrazione resta sempre la stessa. Se venisse accettato il ricorso al TAR il comune di Firenze come si muoverà? Prenderemo atto, il principio della difesa delle nostre città e la lotta per la difesa delle nostre città non si fermerà certo qui.